Oggi parliamo della Emerson, questa azienda di Firenze, azienda italiana produttrice di elettronica di consumo con sede a Firenze, che nasce nel 29 addirittura e poi subisce un sacco di trasformazioni, fa televisioni, fa radiovalvole, agente radio telefunken, infonola, riparatrice di marchi, eccetera. La casa madre americana, cos'è questa casa madre americana? Perché la ditta inizia facendo la concessionaria di altre marche, le costruzioni artigianali di piccole radiovalvole. Nel 50, collaborazione con la statunitense Emerson Radio and Phonograph Corporation, quindi collabora con questa Emerson e poi diventa Emerson Electronics, ecco perché. Nel 68 acquista l'uso del marchio Emerson dalla casa americana, fa diverse cose, poi entra nel capitale Lassanio e nell'80 fermano la produzione e chiude, nell'81-2000 insomma succedono troiate. Se voi cercate online trovate tante bellissime cose sul centro sociale Next Emerson a Firenze, che è un posto meraviglioso dove si fanno cose meravigliose, che una volta si chiama Next Emerson perché una volta si chiamava Emerson se non mi sbaglio, no forse il nome era lo stesso, però è nato come centro sociale all'interno della sede della Emerson, abbandonata da anni e anni, quindi insomma un recupero degli spazi abbandonati che io amo e adoro e loro fanno veramente grandi cose. Non è di questo che vi voglio parlare, vi voglio parlare di questo oggetto, di questo oggetto che ovviamente se si trova qui sul mio tavolo vuol dire che ha dei problemi. Non è niente male esteticamente. Che problemi ha va? Allora uno dei problemi è il peso, questo coso è pesante. Poi qui abbiamo warning, abbiamo delle scritte in inglese, molto strano per una costruzione italiana. Guardiamo il di dietro, abbiamo un seriale, un seriale, un seriale poco leggibile, va bene, abbiamo giusto tre ingressi, un ingresso uscita nastri, due speaker, selettore 220, modello Selene, 150 watt, Emerson Electronics, società per azioni. E qua abbiamo i fusibili esterni, mic mixing, che non so cos'è, la massa, la massa. Ma qui già possiamo constatare una orribiltà. Qualcuno, e noi siamo purtroppo sempre siamo dannati con questo qualcuno, qualcuno ha fatto questa cosa. Ha puntato i fusibili con due pezzi di filo che reggono forse 20 A. E sicuramente avrà provato ad accendere. I fusibili sono ovviamente saltati. Forse ne è saltato uno solo, non so, questo... Questo sembra sano. Proviamo a smontarlo perché con le dita non ci riesco. Grazie Coca-Cola per questi rutti. Vediamo un po' questo fusibile. Che cosa mi dice? Questo fusibile è sano. Quindi questo è sano, questo è bruciato. Quindi è bruciato solo il canale sinistro, il fusibile del canale sinistro. Sono fusibile da 2 A temporizzati. Non ci resta che aprirlo. Aprirlo con violenza inaudita. Quindi prenderò l'avvitatore che userò per svitare. Quindi in questo caso sarà lo svitatore. E con lo svitatore in posizione violenza. Procediamo. Quattro viti e lui non accenna a muoversi. Ah, è incollato da della spugna. C'è della spugna. Ecco, con un po' di violenza. Possiamo osservare due giganteschi condensatori Rubicon. Oddio, giganteschi nemmeno tanto. Una costruzione abbastanza pulita, tipicamente giapponese. Io qua percepisco sanio. Io ho come una percezione di sanio dovuta a questi condensatori. Qui ci sono elettrolitici un po' ovunque. E questi sono della Shoei. Guarda un po' che marca super giappa. Shoei. E' una marca giappissima. Questi sono condensatori super giappi. Qui siamo nel Giappone, signori. Io percepisco sanio. Questa circuiteria mi ricorda la sanio. Aletta di raffreddamento inclinata. Transistor. Transistor piccini. Oh, guardate un po' cosa trovo qua. Quei maledetti strani diodi. I diodi rarità. Questo sembra un amplificatore molto simile a quello che abbiamo, anzi, a quello su cui abbiamo buttato il sangue e le bestemmie tempo addietro. Non so. Secondo me questo amplificatore funziona. Bisognerebbe dare un'occhiata a questi condensatori. Qui abbiamo degli altri diodi. Verifichiamo questi diodi. Potrei usare il mio tester Unity UT139C True RMS. Ottimo. Invece no. Utilizzerò il mio tester a qualità eccellente, industriale, adatto ad usi in miniere. E con esso verifichiamo i diodi. Allora, tiriamo su i diodi in modo da scollegarli dal circuito. Verifichiamo che il tester si muova bene. E, come vedete, questo diodo è ok. Questo diodo è ok. E questo diodo è ok. Quindi qua abbiamo i diodi dell'alimentazione. Ah, questa è l'alimentazione. Molto interessante. Allora, cosa sono quei diodi? Sono diodi in uscita sulle casse. E già si vede. Abbiamo dei diodi di protezione sulle casse. Qui, qui dentro. Quindi questi proteggono le casse acustiche. Vuol dire che qualcuno ha esagerato, ha alzato un po' troppo il volume. Potrebbe essere questa la verità. L'atroce verità. E cioè che questo amplificatore funziona. Anzi, funziona. Perché uno dei diodi abbiamo visto è... Adesso lo sto provando così. E guasto. Ma l'altro funziona. Come vedete. Questo funziona. Ora la domanda è... Allora questo amplificatore non ha niente di rotto. Forse semplicemente... Vuole un attimino di attenzione. Facciamo un'analisi come si deve. Non ripetiamo gli errori del passato. Ora verificheremo le alimentazioni. Lo accenderemo con una lampadina. Già qua vedo una cosa che va assolutamente sistemata. Qui dentro c'è un maledetto rifa. Un maledetto rifa. Sono quei cazzo di condensatori di filtro che vanno a fuoco. E o scoppiano. E quindi questa è una cosa che sistemeremo. Qui abbiamo un fusibile da 5A, da 5A, da 500mA. Sono tutti sani. Quindi vuol dire che l'ultima volta che è stato acceso, qualche anno fa, lui ha funzionato. Ha funzionato, devo dire, anche bene, forse. Qui la vedo abbastanza semplice. Sono un pugno di condensatori elettrolitici che secondo me sono ancora a posto. Vedo regolazione corrente di bias e vedo dei punti dove forse, qui e qui, dove forse si può fare la misura della corrente di bias. Qui c'è scritto test point TP. Proprio sotto il diodo. E qua non c'è un altro TP. Qui c'è un E. Qui c'è un... Cos'è questo? LCH OUT. LEFT CHANNEL OUT. Scritto in inglese. Va bene. Dobbiamo cercare lo schema di questo amplificatore, ammesso di poterlo trovare. Qui abbiamo dei... Dei cosi che sono sicuramente introvabili. Cosa sono questi chip? A798. 1979, se quello è un date code. Transistor... Ah, qua c'è un altro test point. Quindi TP e TP. E questo mi puzza di corrente a riposo. Guardate che belli isolatori in ceramica. Quanto mi piace. Quanto mi piace. Senza indugio io lo accenderei. Ma sì, fanculo il rifa. Che vada a fuoco il rifa sull'alimentazione della 220 volt. Fanculo. Voglio il fumo. Voglio le fiamme. Qui c'è il commutatore. Qui ci sono i volumi. Bilanciamento. Bassi e alti. Lootness e filtro. Che si accendono verso il basso. Esattamente come in questo. Che si accendono verso il basso. Che strana questa cosa. Play source. Va bene. E on. Così. Siamo scollegati. Vediamo di sotto se si può accedere alla scheda. E si può accedere a tutto. Perché ci sono le viti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dici, uno, dici, uno, dici. Adesso le levo. Otto viti. E il pannello si toglie. Uh, che bello. Guardate quanto spazio. Pannello pulito. Discretamente pulito. Ecco qua. E qui c'è molto spazio. Qua si vede il rifa. Il maledetto rifa. E qui è la parte sotto della scheda. Che ora giriamo. Guardate come è cablato la coppia di condensatori. Interessante. Tutto molto pulito. Queste fascettine rimovibili. E qui abbiamo delle sigle. Giriamo. Otto. Otto. Quattro, due, due, sei, nove, due, nove, uno, sei, zero. E poi c'è un simbolo di... Tutto questo puzza di sanio. Puzza di circuiteria sanio. Fili wirewrappati. Come potete vedere sono wirewrappati. E non saldati. Le saldature... Non sembrano fredde. Sono a posto, direi. Sembra tutto a posto. Sono curioso di vedere lo schema. Ammesso che si trovi. Ma io ho il sospetto che questo schema non si trovi. E come vedete la massa è la stessa massa degli altoparlanti e va alla carcassa e va qui. E c'è una sola fredda. E c'è una sola fottuta massa qui. Non ce ne sono 142. Come in quel cazzo di amplificatore qua. Maledetto lui. Andatevi a vedere l'orrenda serie. Bene, bene, bene. Mi piace. Sarà un amplificatore comunque di debole potenza. Mi suona... Tutto questo mi suona come un 30 watt. 30 più 30. Forse 20 più 20 addirittura. Però i condensatori sono molto grossi. Va bene, adesso facciamo qualche test. Qualità eccellente industriale. Adatto a usi in miniere. Ora purtroppo ancora non abbiamo trovato una miniera per andare a fare dei test con questo favoloso strumento. Però... Fa cose. Si carica. Si carica leggermente. Vedo l'ago scendere un pochetto. Piano piano, piano piano, piano piano. E al contrario. Vedete? Ha mantenuto la carica. E poi scende. Quindi il condensatore condensa. Quindi diciamo che in teoria... Qualcosa questi condensatori fanno. Questo è un test altamente empirico. È un test del cazzo. Un test di cazzo. Sembrava un... È una cagata questo amplificatore. Invece mi piace molto. Mi piace. Chissà se riesco a smontare il rifa in modo non invasivo. Una cosa è certa. Lo devo assolutamente togliere. Chi cazzo è che mi rompe il cazzo su Whatsapp? Non ho ancora costruito quello che mi piacerebbe costruire. Cioè è un box con attacchi per diverse lampadine. In ingresso e uscita 220, selettore, bypass. Per fare le prove con... Ecco, adesso spaccherò questa lampada. Con le lampade in serie che si fa per evitare di stressare il gruppo alimentazione. Quindi userò questo che ora io ficcherò qui con olio. Poi verificando che lui sia spento, ficcherò... È spento, sì. Ficcherò la spina qui. Bene, e a questo punto lo possiamo alimentare. Buon segno. L'ho fatto un flescino. E si è affievolito. Questo è un buon segno. Se la lampada fosse rimasta accesa, sarebbe stato un cattivo segno. Rifacciamo. Lo lasciamo acceso così per un attimo. Purtroppo ho solo questi. 1,6 A. Temporizzati. E quindi... Metto due di questi. Uno... Tra l'altro i fusibili ci ballano, guardate. Quindi questo porta fusibili è un... È un troiaio di Vojtila. Vediamo se io svito questi. Se io svito questi con violenza. Una. Due. Questo coso più o meno... Più o meno che più, perché i cavi sono cortissimi. Questa cosa più o meno esce. E però non ho... Non ho come fare. Dovrei provare a... E sperare che mettendo i fusibili, questo a questo punto glielo riavvito. Però temo che non ci sia un cazzo da fare. Adesso tiene però. Sì. Ora tiene. Ehi! Prendo le casse e le collego. E proviamo. Casse collegate. Sento... Sento... Fruscio sulle casse quando... Vediamo. Però... Non sento... Non sento altro. Luternes. Questo coso funziona. Quindi era lui. Non solo funziona, ma è pure silenzioso. Guardate la lampadina. Quando tocco. Abbiamo dell'assorbimento. Abbiamo la lampadina che si accende. Io lo lascio così un po'. Dopodiché tolgo la lampadina. Ci ho provato per un po'. Ho cercato ancora quei maledetti player mp3, ma non li trovo. E quindi... Eccomi qua ad usare di nuovo il computer. E quindi ora mando in play una cosa. E vediamo un po'. Ho detto mando in play una cosa. Ah! Si sente. Questa cosa funziona. Un canale. L'altro canale. Esso funziona. Controla toni funziona. I bassi, per quanto si possano sentire qui, funzionano. Beh. Non male come non riparazione. La lampadina è sempre così. Certo, ho preso l'unico brano che è proprio trogiagio. Vediamo questo qua com'è. Ecco. Attenzione, 220 diretta, probabile scoppio rifa. Vai! Acceso. Lui funziona. Lui funziona. Bene. Bene. È bello quando non serve riparare qualcosa. Chissà se e come bisogna tararlo. Andiamo a cercare uno schema elettrico. Io qua lo lascio... No, vabbè, lo spengo. Funziona, ma non esageriamo. Va bene, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Qui c'è uno di quei cazzo di siti che ti costringono a registrarti, ma vaffanculo. Prove. Pagina 137. Emerson, serene 60-20. Interessante. Quindi, 78? Lo sto vedendo, però, eh. Serie 60-20. Ah. Volume 10, pagina 78. Chissà se esiste. Lo vediamo. Niente, qua sulle radio di Sofia hanno messo online solamente gli indici, ma non hanno scannerizzato, evidentemente, tutto il resto. Peccato. Emerson, serene, stereo play 51-78. Quindi, torniamo al 1978, mentre queste sono altre cagate sulla Emerson, ma io non riesco a trovare nessun manuale di servizio, purtroppo. Niente. Nulla. 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 Nessuno schema. Quindi farò delle misure empiriche. Augurandomi che si veda ciò che farò, io accenderò l'amplificatore col volume a zero, senza loadness, senza filtro, con tutto al centro, su AUX. E vedrò un po' che tipo di tensioni mi trovo, ad esempio, su questo test point. 0,12 volt. E qui, la stessa cosa. 0,127 qui, e 0,118, va bene. 21, 21, 15, e siamo lì. Poi, sui canali cosa trovo? Sui canali trovo 0,084 volt in continua, bene. E 0,065 in continua, quindi non ho componente continua sull'uscita, il che è un bene. Come alimentazione, che cosa mi trovo? Io qua ho dei punti. Meno 30 e più 30. Perfetto. Mi suona veramente bene. Meno 30 e più 30 mi suona bene. Vuol dire che lui c'è. Abbiamo un'alimentazione duale di più o meno 30 volt. Allora, qui, nella sezione toni mi entra 14 e meno 14. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda molto il Kenwood. Lui, leggermente tiepido, E forse, diciamo che potrebbe forse scaldare un po' di meno? E chi lo sa? Non avendo lo schema, non sappiamo cosa fare. E quindi, niente, mi sento di dire che non si tocca, perché squadra che vince non si cambia. Squadra che vince non si cambia, io lo richiudo, così com'è. Il rifa lo lascio lì. Quindi, che cazzo me ne frega a me? Se scoppierà, scoppierà e farà un bel rumorino di botto. Le tensioni mi sembrano a posto. Questa cosa è veramente ok. I condensatori sono assolutamente freddi. Quindi non c'è nulla che abbia surriscaldato. Il dissipatore è tiepidino. Qui abbiamo degli operazionali GRC4558, i sempre soliti. Date code 74 e basta. Direi basta. Dichiaro che questa cosa funziona. Bene, lo abbiamo rimontato. Perfetto. E se riuscirò a trovare uno schema, magari ridarò un'occhiata a quei settaggi interni. Però non saprei. Voi, se avete per caso informazioni su questo Emerson Selene 6020, siete pregati di farmelo sapere. A quanto ho capito, lo schema si trova su uno schemario che si chiama Antonelliana. uno schemario Antonelliana, edizione Antonelliana, e si trova nel volume 10. Anzi, 10. Perché se io vado a cercare qua, Emerson, ecco qua, Emerson, serie 6020, volume 10, pagina 78. Quindi, se qualcuno di voi ha gli schemari Antonelliana, che mi piacerebbe tanto avere tutti questi schemari, mi piacerebbe veramente tanto, se per caso qualcuno di voi ce l'ha e mi fa una foto dello schema e dei settaggi, insomma, della parte relativa a questo amplificatore, mi fa un bel favore, altrimenti me ne fotto, me lo tengo così, funziona, squadra che vince, non si cambia. Non l'abbiamo resistito e l'abbiamo dovuto collegare alle casse, per capire come suona. Allora, questo non sarà il massimo del... Non male. Rumore di fondo inesistente. Contro, dei toni perfetto, bilanciamento a posto. Certo, andrebbe provato con della musica un po' più... Però, non male. Il potenziometro è un po' rumoroso, ma ci sta. Lo potrei pulire, ma me ne fotterò. Niente rumore. Forse un leggero soffio. Ma, insomma, ci può stare. Ma, giusto se sparo gli alti al massimo. Va bene, funziona. Funziona, bello. Grazie, ciao, arrivederci. Se vi ricordate, quando ho mostrato la scheda all'interno dell'amplificatore, c'era una sigla 8 e poi un 42269, eccetera. Ho cercato questa sigla su Google ed è spuntata una necropoli e altre stronzate. Dopodiché ho cercato 8 Sanio Amplifier e sono spuntate delle cose, attenzione, perché pare che la Sanio abbia fatto una serie di amplificatori che ha chiamato 8, serie 8, e ce ne sono diversi. Allora ho fatto altre ricerche, ho cercato qualcosa di esteticamente simile e mi è spuntato il Sanio DCA20, che è qui. Ora, la parte esterna sicuramente non è proprio lei. Però la quantità di cose che ha è esattamente quella, ma soprattutto la parte di dietro, andiamo a vedere, vediamo, questo è un... un cazzo, una serie di cazzi in vendita. Ecco, questa è la parte di dietro del Sanio DCA20 e abbiamo esattamente gli stessi ingressi uscite, 3, Fono, AUX e Tuner, poi 2 per il tape, ingressi uscita, dopodiché abbiamo l'uscita delle casse, guarda caso, è uguale, è proprio uguale. E poi qua abbiamo il porta fusibili, identico. Poi abbiamo uno switch qua per 220 e 110 e poi abbiamo questa cosa strana che adesso non mi ricordo come si chiamava Mic Select Salcaz per eppè e quindi è lui. È veramente lui, secondo me. Ovviamente la Emerson lo ha rimodulato, ha cambiato qualche cosetta, ma secondo me è esattamente lui. Se non è lui è molto simile, solo che non riesco a trovare neanche lo schema di questo Sanio DCA20. C'è in vendita su ebay, ma col cazzo che me lo vado a comprare. E qui abbiamo 1, 2, 3, 4 manopole e sono quasi messe nello stesso modo, a parte le levette che sono accensione, l'audeness e il filter. Filter che non so che filter è. Questo è per il tape. Ma non lo so. A me pare lui. Se non è lui è molto simile a lui. È comunque serie 8 della Sanio. Qualcosa salterà fuori, chissà. Grazie, grazie e arrivederci. Grazie.